Innanzitutto, perdonatemi i capezzolini, stavo andando a nanna e mi hanno scritto tutti a Pia Medeo ti hanno dissato, io volevo dormire. Figo, onesto, una delle cose più fighe che ho visto in Rai perché l'ho trovato in una grande installazione artistica, cioè nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi dei nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti cercando di sputtanare l'avversario senza contraddittorio. Figo, bravi tutti, mi è piaciuto, bravi Pia Medeo, spero un giorno di diventare un anticonformista, antisistema rivoluzionario come voi, domani incomincerò, uscendo per la strada e dando del negro e del frocio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni, ok? Bravi, bello. Comunque sono un po' deluso da Pia Medeo, cioè mi avete fatto quest'atto rivoluzionario di sdoganare la parola negro e frocio, ma siete in diretta sulla Rai, ma una bella bestemmia non me la tiri, cioè i negri, i froci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno sono obbligati a perdonarti, un po' arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino. Si è ingazzato Federico, Fedez, veramente. No, Federico, perché noi non ci saremmo mai per me, noi proprio manco sappiamo che significa i dissing, tu sei il numero uno dei numeri, uno dei numeri, uno dei top of the pop, top of the pop, dei social, capezzolino, mai ci saremmo per me, ma che cazzo significa i dissing, comprate, mai noi sappiamo fare queste cose suoi, papà, per vendere, noi non ti svinghiamo nessuno, noi ci ingaggiamo, a proposito di questo aspetto, subito, chiarirei subito con questo aspetto, la Rai non ha ingaggiato a noi, perché non abbiamo preso una liga stasì, siamo arrivati alle dieci e mezzo, non abbiamo mai visto né un dirigente della Rai, mettono sulle pappe, vendiamo le mutande con noi, fai le sue pappe, ma non abbiamo visto un dirigente stasire, non è che un dirigente della Rai, tu dici, dite questa cosa contro Fedez, niente, noi arrivati qua, saliti sul palco, ho detto una cosa anche ovvia, televisiva, soprattutto un programma in diretta televisiva, nessuno avrebbe potuto fermarti, la vita ne dà, con un artista come Fedez, un certo calibro come Fedez che fai vedere va bene, ma nessun altro artista, non è che sarebbe arrivato i bodycar sul palco a buttarci a te, buttate Fedez, buttate Fedez, buttate Fedez, buttate Fedez in un sacco di tela, è pericoloso, no, 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 quindi avresti potuto esprimere il tuo pensiero senza fare tutte queste polemiche, poi alla fine ho ch residato la sei presa con un ultimo di funzionamento, no, no, tu hai un pensiero, vai e lo dici, nella polemiche che c'è sta di dire, una cosa ovvia, secondo me, perché noi raccontiamo le storie caro quería, oh oh oh, abbiamo fatto tre storie tre storie senza fare mango, swipe up è il momento degli sposti comprate le mutande i cassettoni, i sgari, i cipetti i divizi, i baggieri, i valigi i valigi, i maglietti i peni, le unghie, i gommoni i gommoni, i gommoni, i gommoni e questo lo diciamo da super partes perché ricordiamo che noi siamo della mediaset, la rai stasera non ci ha pagato a gratis come piace a noi solo l'albergo, stiamo qua comunque detto questo Federico Male ci siamo rimasti noi, non tu, perché questa cosa del populista, da te non ce l'aspettava Federico Caschi Male, sei un ragazzo intelligente, perché devi dire ste cazzate? fai passare sta cosa che noi stichiamo la gente ad andare in giro a dire negro, frucio dai, non ci provare nemmeno perché nessuno ha mai detto una cosa del genere, e tu lo sai bene non essere riduttivo non essere riduttivo anche perché poi si cade nel patetico e tu non puoi diventare patetico, no, tu sei un artista attenzione Fede, attenzione mi raccomando, mi raccomando perché magari si infiamma la polemica e se si infiamma la polemica secondo me è stata una crisi isterica di notte no, 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 la polemica, capito e in mezzo alla polemica che ci sta il traffico e in mezzo al traffico ci metto sbagliati si e ho completine mandaci gli smatti mandaci gli smatti per la palestra, insomma una bancarella due punti, ci abbiamo tutto vabbè comunque Federico, non te la prendi piace, non cagano il cazzo stai tranquillo, è una cosa non fare il risentito ecco dai, allora, abbiamo semplicemente detto un fatto di cronaca che si può essere liberi anche in Rai ovunque basta volerlo tu andavi là, se ti chiami Federico nessuno ti avrebbe fermato Dio, vai! parla! c'è una cosa a dire che ti ferma a te mandaci lo smatto che ci teniamo assai mandacelo un abbraccio colore un abbraccio grande Fede io vederlo sempre fa una polemica tutti i giorni sto male io un abbraccio Fede ciao